E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi sul canale di Pringiluka Tech e parleremo di un accessorio indispensabile per chi come me ama la tecnologia e non solo. Scopriamolo insieme dopo la sigla. Il prodotto di cui parleremo oggi si chiama Anker Powerport 5, ovvero un caricatore multipresa decisamente indispensabile per chi come me ha tantissimi dispositivi da ricaricare. Questo dispositivo, essendo uno dei migliori caricatori multipresa sul mercato, è decisamente dotato di tutte le tecnologie di ultima generazione per fornire il giusto amperaggio ai dispositivi connessi. Questo prodotto dà le dimensioni decisamente ridotte e ottimo per essere alloggiato all'interno di uno zaino. I materiali adoperati per la composizione di questo dispositivo sono alluminio per la parte esterna rivestito di una gomma in soft touch e un pannello di plastica nero lucido per il fronte dove trovano alloggiamento le porte USB di tipo A. Dal nome Anker Powerport 5 scopriamo che questo dispositivo è fornito di 5 porte USB di tipo A, tutte con tecnologia QI, ovvero per fornire il giusto amperaggio ad ogni dispositivo con esso. Power QI, questa tecnologia decisamente utile nel momento in cui andiamo a ricaricare il nostro dispositivo ci aiuta tantissimo a ricaricarlo nel minor tempo possibile senza sovralimentare la batteria. L'unica nota dolente che sono riuscito a trovare in questo accessorio dopo due settimane di utilizzo è stata l'impossibilità di poterlo alimentare tramite un power bank esterno per ricaricare i nostri dispositivi in movimento. all'interno della confezione troveremo oltre al caricatore multipresa la solita manualistica il cavo di alimentazione a due pin e inoltre una comoda striscia biadesiva per attaccarlo alla nostra scrivania o al nostro comodino e una strip a volgicavo per il cable management. Ragazzi dopo aver utilizzato questo accessorio posso assegnargli una sola parola, indispensabile. questo perché quando ci troviamo all'interno di un albergo avendo poche prese di corrente o all'interno di una sala conferenze avendo la stessa situazione abbiamo la possibilità di ricaricare 5 dei nostri dispositivi in comodità e velocemente. Ragazzi il video finisce qui, questo prodotto fa parte di quel format di cui ho parlato negli scorsi video, io vi ringrazio per aver visualizzato questo, vi invito a lasciare un mi piace, a seguirmi su Facebook, Instagram e Twitter e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Noi ci rivedremo sempre qui sul canale di P&G Lugatech con il prossimo video.